stanno mangiando e stanno mangiando molto alla Ghibli diciamo in questo caso nel senso che sono creature assetatissime di cibarsi sono incredibilmente ossessionate che piedini sotto alcuni punti di vista fanno nemmeno paura fanno nemmeno paura ok ritiro tutto ritiro tutto farò una paura oh Dio fanno fanno paurissima fanno paurissima fanno paurissima grazie a tutti